Musica Presidente, allora oggi c'è questa nuova situazione, i giovani imprenditori della provincia di Foggia hanno deciso di mettersi tutti insieme e però di appoggiarsi alla Camera di Commercio che offre delle opportunità, quali innanzitutto? Ma in assoluto oggi i giovani con questa scelta strategica hanno voluto far comprendere che il futuro e se un insegnamento si dà deve passare attraverso un'unità generale e quindi anche volersi limitare il mandato rappresenta per me una estrema democrazia però che la dice lunga su come si deve lavorare oggi non c'è più tempo di pensare a maggioranze, minoranze, opposizioni, insomma chi ha la possibilità di poter creare un'unione complessiva lo deve fare la Camera di Commercio mette a disposizione le proprie strutture, non solo la location, dicevo prima è impensabile che una Camera venga vista solo come un ente certificatore oggi la Camera è un motore importante dell'economia e quindi le loro esperienze di questi giovani che sono sul campo, non solo italiano ma anche internazionale ci serve moltissimo, accusiamo la fuga dei cervelli, oggi dobbiamo dire che il momento è storico, sono i cervelli che ritornano da noi e stanno in Camera di Commercio Senta Presidente, lei ha fatto un passaggio anche su quello che è stato il suo passato, quindi i suoi tempi tra virgolette e quelli attuali, quali sono le differenze sostanziali? Io entravo come giovane componente della giunta di Confindustria in quegli anni, voglio dire gli anni 80 e quindi 84 per esattezza e avere, voglio dire, dei grandi personaggi tipo Pedone e altri, non li voglio ancora salto qualcuno, poi faccio un errore grandissimo, Gaudiano e altri ancora tantissimi Fantini, per me era una palestra enorme di confronto e di conforto, è evidente che inizialmente io ascoltavo ma quella formazione mi è servita a far capire uno il comportamento, quello doveva essere il rispetto e poi è nata dentro di me la voglia estrema di partecipare di essere, voglio dire, partecipi, non voglio usare la parola protagonista, perché in Confindustria esiste una regola fondamentale i mandati sono molto ristretti, sono unici e quindi se uno li sa far valere, allora a quel punto lascia una traccia I giovani di oggi che cosa le sembrano? Molto, molto più avanzati noi, estremamente più avanzati, più moderni, più risoluti, rappresentano il tempo moderno per chi vuole sopravvivere noi dobbiamo fare ammenda e dobbiamo fare in modo che loro si intirino perfettamente e se potessero anche arrivare immediatamente a posti di comando saremo felici Un consiglio? Quello di dire come la pensano, senza timori e infincimenti, la verità e la forza sta in questo oggi e la gente vuole vedere volti nuovi ma anche idee nuove Presidente Schiavone, cominciate questa avventura di giovani imprenditori in uno dei momenti più difficili per l'economia non soltanto locale ma internazionale Sì, per la prima volta riusciamo a mettere ad un tavolo istituzionale perché la scelta della Camera di Commercio non è casuale la visibilità, il supporto, il partenariato che ne potremo avere con la Camera di Commercio non è assolutamente da tenere in seconda considerazione sappiamo che da quando inizio ad occuparmi di sindacato sento parlare di crisi quindi nulla di nuovo, siamo pronti a supportarla, a sopportarla e cercheremo naturalmente per quello che può essere il nostro apporto per quanto minimo ma sicuramente fatto da idee giovani di poterla affrontare nel migliore dei modi Senti, la domanda classica che facciamo a chiunque assume un impegno qual è la sua agenda dei primi 100 giorni? Beh insomma 100 giorni, per fortuna dei sei mesi che ci eravamo dati del nostro mandato l'abbiamo prolungato ad un anno avremo un convegno sull'imprenditoria giovanile nei prossimi due mesi premio imprenditore dell'anno, credo che invece lo porteremo un po' oltre i 100 giorni sicuramente a settembre invece questo progetto di cui ho parlato prima durante la conferenza stampa che è Capitargano, attraverseremo la Capitanata partendo dal subappennino arrivando fino al Gargano, passando per la parte bassa della Capitanata facendo conoscere aziende agricole, industrie, attività commerciali attività alberghieri, agriturismi, bed and breakfast attraversando i borghi e le città più rappresentative Presidente, io un passo indietro lo farei perché questa scelta di mettersi insieme? Oggi noi vivevamo, come ho detto, nel ghetto delle singole associazioni di categoria per la prima volta riusciamo a fare rete insieme parlando con gli altri membri del coordinamento ci siamo resi conto che per noi è veramente utile fuoriuscire dagli soliti schemi in cui siamo vissuti finora io mi sono occupato solo di agricoltura, non conosco il commercio, non conosco l'industria non conosco le cooperative, per me è fondamentale conoscere anche gli altri settori sarà un passaggio importante per tutti i componenti che sicuramente miglioreranno la propria carriera sindacale di rappresentanza Con Pellegrino Mercuri di Coldiretti innanzitutto perché questa scelta di mettersi insieme con gli altri giovani imprenditori delle altre categorie? Questa scelta di mettersi insieme perché noi crediamo che collaborare ci aiuti moltissimo possiamo a tirare su le nostre imprese noi possiamo solo con la collaborazione sicuramente le nostre imprese si risolloveranno e riusciranno a tirare la capitanata ad un buon punto commerciale e produttivo La provincia di Foggia è nota perché ovviamente l'agricoltura è il primo volano per questa zona ecco a che punto è la situazione vista dagli imprenditori di Capitanata Giovani quali sono poi le prossime mosse a livello di componenti di questa nuova commissione? Noi proprio in seno a questa nuova commissione vorremmo portare non l'agricoltura come volano della provincia ma l'agroindustria a volano della provincia quindi collaborando con gli industriali, con i commercianti in maniera tale da creare un prodotto finito da offrire non il semplice pomodoro o il grano ma pasta o passata di pomodoro finita a marchio provincia Foggia in maniera tale da poter avere maggior valore aggiunto per tutta la provincia quindi più occupazione, più lavoro per tutti Con il presidente di Confindustria Giovani, il dottor Roseto oggi si è presentata questa opportunità abbiamo sentito il presidente dei giovani di categoria e ci ha spiegato le motivazioni invece io chiederei a lei come sviluppare le imprese del territorio come farlo e quali sono appunto le priorità Sì, allora le priorità, lo dicevamo prima durante una discussione nata con i giornalisti fino ad oggi lo sviluppo del territorio è stato quasi casuale poiché c'erano fondi pubblici c'era il bagaglio di ricchezza proveniente dalla fine anni 70 che si è protratto agli anni 80 e anni 90 con la crisi economica che adesso è diventata crisi reale non più finanziaria lo sviluppo non può essere più casuale è necessario che ci sia un'impostazione programmata di azioni fisiche, reali che portino allo sviluppo del territorio e questo lo vogliamo fare con la presenza in Camera di Commercio spingendo, l'abbiamo detto in maniera molto forte la dirigenza, la politica della Camera di Commercio verso obiettivi più concreti che sono quelli dell'accelerazione dello sviluppo del territorio Senta, lei proviene da un'esperienza di pochi giorni fa con l'incontro all'incubatore di Candela con il GAL Meridania che sul territorio sono anni che cerca e anche positivamente di mettere insieme le realtà locali come è stata l'esperienza? Quali sono stati poi i frutti? E quale sarà il futuro? L'esperienza è stata assolutamente positiva l'abbiamo voluta con forza e costruita come dire, quello era un passo, un primo passo verso qualcosa di reale e futuro ma che ci è costato tanta fatica per organizzare per cui il prossimo passo sarà un altro brainstorming con gli amici inglesi il 22 aprile la data da definire probabilmente sarà quella in cui metteremo a punto la costruzione del cluster sull'energia che però è abbastanza ampio perché può contenere anche aziende di altri settori che abbiano comunque l'idea della sostenibilità il mese successivo andremo invece a visitare fisicamente il nucleo industriale di Peterborough in Inghilterra e entro l'estate metteremo le basi per un cluster il cluster, attenzione, non è qualcosa di giuridico non esiste un statuto, un presidente di cluster ma è l'idea di creare un acceleratore all'interno del territorio e l'acceleratore è prodotto dalle aziende stesse per cui aggregazione e accelerazione e innovazione questa è l'idea non più enti pubblici che gestiscono le aziende e la vita delle aziende ma le aziende che gestiscono da soli la propria vita aggregandosi e accelerando lo sviluppo Ecco, io chiudo con questa richiesta vi sentite pronti voi giovani tutti insieme nei vari vostri settori per partire, per dare una svolta finalmente poi anche a questa idea soprattutto perché in questi tempi di crisi c'è bisogno veramente di scelte forse anche radicali Sì, allora come giovani siamo pronti poiché anche se giovani io magari un po' meno però io sono altri colleghi molto più giovani di me abbiamo un'esperienza aziendale di anni perché abbiamo responsabilità all'interno delle nostre aziende gestiamo molto spesso centinaia di lavoratori fatturati importanti perché vorremmo mettere a disposizione veramente del territorio e delle nostre aziende la nostra esperienza in maniera però molto pratica niente accordi di programma, niente politica niente ma accelerazione dello sviluppo del territorio in maniera non casuale questo è il nostro credo allo stato attuale Ecco, voi avete parlato oggi di no politica ma purtroppo la politica ha un'importanza perché bisogna che si spinga la politica a dare delle indicazioni poi a come muoversi quindi a creare anche nuove normative, nuove leggi nuove opportunità anche per gli stessi territori Sì, l'ho accennato prima il nostro impegno è di non fare politica perché siamo già abbastanza impegnati nelle nostre aziende ma di spingere la politica a fare meglio un pungolo continuo che probabilmente in camera di commercio inizieranno a sentire e spero che accettino con gioia per cui spinta e proposte magari anche proposte di legge perché no, verso la politica per fare meglio per le imprese quando dico imprese però bisogna fare attenzione parliamo di imprese ma parliamo di lavoro di lavoratori per cui il fine ultimo dell'accelerazione del territorio dello sviluppo non è lo sviluppo per se stesso ma creare occupabilità poiché abbiamo due grandissimi limiti attualmente è l'occupazione sappiamo i tassi di disoccupazione soprattutto giovanile e il credito quindi su queste due macro aree dobbiamo assolutamente insistere per cui tutti i progetti lo dicevo l'altra volta al GAL mi piacerebbe che tutti i progetti fossero misurati in termini di numero di lavoratori che producono per cui se un progetto è più valido di un altro se produce dieci postazioni tra virgolette lavoro in più questo deve essere deve essere il focus sviluppo del territorio ma non con opere di qualsiasi tipo che non portino occupazione perché l'occupazione ha un effetto positivo sulle imprese se non si guadagna non si spende e le imprese muoiono non ? Grazie.